E scintillante video! Oggi siamo qua per fare un video molto particolare ovvero dobbiamo fare la manutenzione al mio tagliaerba sì, perché devo tagliare l'erba e dovevo metterci l'olio e la benzina e non avevo voglia di farlo da solo quindi ho detto perché non fare un video, no? Idea geniale Che dire, andiamo subito nel mio sgabuzzino a vedere se abbiamo l'olio perché nella peggiore delle ipotesi che non ho l'olio devo andarlo a comprare quindi a me! Bene, siamo arrivati nel mio sgabuzzino come vedete è bassissimo Questo è il tagliaerba e adesso vediamo se c'è questo e l'olio vediamo un po' C'è E' vuoto Allora, che dire? Andiamo dal benzinaio a vedere se c'è l'olio e poi ho visto che non manca anche la benzina quindi andiamo a vedere pure se c'è la benzina quindi andiamo a prenderla quindi ci vediamo dopo Raga, raga C'è incredibile uno va dal benzinaio per comprare l'olio per comprare la benzina perché deve fare il video ed è chiuso! Cioè, scusa Cioè, uno adesso io devo andare un altro benzinaio per comprare l'olio andiamo a facciare la benzina Qua abbiamo preso il tagliaerba l'abbiamo messo qua Adesso ho iniziato a fare a prendere, a mettere l'olio perché dovevo togliere il tappo e vedere a che livello era ed era vuoto quindi adesso ho aperto la tannica d'olio e adesso la andremo a gettare qua dentro Esuotati Forza Ok Adesso andiamo lì Apriamo la tannica di benzina e la mettiamo Così dovreste vedere Sì Eh sì, te l'apro male però non la potremo mai mettere qua dentro Oh là! Ok, tannica da 5 litri presa Quindi adesso andiamo a metterla Bene, dovrebbe essere fatto Ho fatto un disastro Adesso direi dato che abbiamo messo l'olio e messo la benzina nel mio tagliaerba andiamo nel prato e vediamo un po' se ci accende se abbiamo fatto tutto giusto oppure esplode tutto Direi mettiamo start e partiamo se è ingolfato signori vediamo un po' le lame che rollo è successo perché non parti sta roba che è successo qua? non è successo niente ma c'è tutta aia me lo sono andato sui piedi se era mezzo acceso eh se era ecco così va meglio manca poco manca poco perché scusa sta uscendo l'olio? single fuck funziona direi che funziona avevo soltanto messo troppo olio vabbè non è successo niente niente di grave speriamo che per dopo non vada a fuoco quindi direi che la manutenzione al mio tagliaerba è fatta quindi possiamo proseguire con l'accensione dell'altro tagliaerba che è del decespugliatore che è è un casino perché quello lì non ci accende mai ma mai e mai il decespugliatore quindi la pratica da fare per il mio coso sarebbe dare aria non so se qua mi vedete però va bene lo stesso cioè qua io ho cliccato un tasto di accensione ho dato aria quindi adesso direi di fare un colpo così si è acceso signori si è acceso si è acceso signori incredibile il decespugliatore si è acceso finalmente finalmente non si accendeva mai speriamo che si accenda anche dopo speriamo quindi che dire il video è giunto al termine abbiamo fatto tutto quello che dovevo fare quindi che dire lasciate un mi piace iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati iscrivetevi anche alla mia pagina di iscrame che vi lascio qua sotto giù in descrizione e quindi che dire ciao grazie a tutti grazie a tutti